Buongiorno, 3, 3, 1, 2, 7, 3, 7, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Vediamo un altro pezzo, questo era un tappeto d'immagine, vediamo. Diciamo che le notizie che sono apparse, gli aerei che hanno avuto un'ampia cassa di dissonanza, non mi hanno stupito, nel senso che siamo abituati comunque in questo paese a fare notizia spacciando per certezze ciò che certezza non è. Ci troviamo di fronte a una sentenza di primo grado non definitiva, priva ancora di motivazione, ci sarà nel corso del tempo, ma ancora non c'è. C'è un altro pezzo, chiedo se possiamo alzare un attimo l'audio anche in studio, perché così capiamo quello appena detto al microfoni. Sentite. Veniamo. Abbiamo e avete la responsabilità di dare il pubblico, qual è il problema, qual è il punto? Quello di capire cosa effettivamente le succede per poi scegliere, ci credo, non ci credo, non mi interessa, eccetera, o quello comunque di cercare una notizia un pochino particolare. Ok, allora, la conferenza è stata molto lunga, spiegaci che cosa hanno detto in questa bella conferenza stampa. Roberta. La prima cosa, il primo punto, come abbiamo detto, è che Gisela ha detto che non ha alcuna difficoltà di incontrare il Vescovo, anzi, essendosi insediato da pochissima, avrebbe avuto piacere a conoscerlo, non in questa situazione, perché, dice, la pressione mediatica è stata talmente tanto che ha indotto il Vescovo ad avviare questa indagine. Poi, tramite il suo avvocato, ha specificato e ha chiarito la sua posizione circa la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta. È stata condannata in primo grado a due anni con pena sospesa. Lei ha detto che è stata una leggerezza del suo passato, che non c'è stato dolo. L'avvocato ha precisato, però, che ci troviamo ancora nel primo grado di giudizio e quindi fino al terzo grado non si può condannare definitivamente una persona. Siamo in Italia, ha precisato, e quindi per il momento c'è solo una condanna di primo grado. Ancora bisogna vedere i tre gradi di giudizio prima di emettere una sentenza definitiva. E comunque è stata una leggerezza del passato di Gisela. Per quanto riguarda invece poi la Madonnina che piange, quella che lei tiene all'interno della sua casa e oltre alla Madonnina piangerebbe anche, avrebbe pianto anche l'immagine di un Cristo acquistato a Roma, avrebbe anche pianto lacrime di sangue. Sia la statua che l'immagine non viene portata, ha precisato Gisela, in pubblico, cioè non viene portata fuori dalla casa per preservare le lacrime della Madonnina e per preservare questa statua. Va precisato che il tre di ogni mese, Eleonora, la Madonna dà dei messaggi e da fedeli che hanno partecipato a questi incontri, dei fedeli che hanno partecipato più volte anche a questi incontri, c'è stato detto che non solo il tre di ogni mese, non solo alle tre precise, più o meno, come ha detto Gisela, minuto in più, minuto in meno, la Madonna dà questo messaggio a Gisela, ma c'è anche un momento preciso del Rosario, cioè alla quarta preghiera del Rosario, lei si inginocchia e la Madonna inizia a parlare, lei scrive per non dimenticare quello che la Madonna dice e poi vengono dati questi messaggi. C'è stato detto anche che Gisela è pare che da sei anni che annunci tramite i messaggi della Madonna, annuncerebbe la Madonna tramite Gisela, una guerra, che però non dipenderebbe dalla... Non solo, avrebbe parlato pure del Covid. Avrebbe parlato anche del Covid. Scusami, ai fedeli vengono chiesti i soldi? Sì, ai fedeli vengono chiesti i soldi. Ai fedeli non vengono chiesti i soldi, dobbiamo dire però che si tratta di... Offerte e opere di bene? Sì, Gisela ha un'associazione, un'associazione Ollus, che è anche un'organizzazione all'interno del terzo settore, e vengono fatte delle donazioni libere, donazioni che hanno permesso di acquistare il terreno, che hanno permesso di fare dei lavori che hanno comportato anche delle cifre sostanziose, 40.000 euro il terreno, 12.000 euro la recinzione, e poi ci sono stati dei fedeli che hanno acquistato la statua grande, quella che si trova nella località delle Rose, dove si incontrano i fedeli. Poi ci sono le varie convenzioni che l'associazione ha fatto con alcune strutture recettive, dove abbiamo fatto la conferenza stampa, ad esempio c'è uno sconto del 10% per pranzare il 3 di ogni mese, piuttosto che dove alloggiare, dove ci sono degli sconti particolari, che devono essere però convalidati le richieste dall'associazione, quindi deve passare tutto all'associazione. Poi ci sono anche dei progetti, è vero, hanno detto in conferenza stampa, ci sono dei progetti che aiutano con questa spesa solidale. Perdonami, l'associazione è un'associazione no profit? L'associazione è un'associazione onlus, ha un bilancio, è tutto certificato, nel bilancio però noi abbiamo visto il bilancio. È un'anno profit? È un'anno profit, è un'anno profit, è un'anno onlus, e però ricordiamo Eleonora che può prendere, no Eleonora ricordiamo anche che però può prendere delle agevolazioni dello Stato, può prendere anche degli incentivi, il 5 per 1000, quindi comunque hanno dei budget che entrano, ci sono dei soldi che entrano all'intorno dell'associazione, sappiamo, ma va confermato che all'interno del direttivo dell'associazione ci sono tre persone, il marito, la moglie e credo sia anche una terza persona vicino alla famiglia. Quindi il consiglio direttivo è composto da tre persone, marito, moglie e un'altra persona al loro molto vicino. No, non parlo. Mirella? Beh, intanto per rispondere a quello che tu chiedevi, lei dice che il terreno l'ha acquistato con dei soldi donati da una persona che era stata miracolata dalla Madonnina, in realtà poi risulta che l'ha comprato lei, quindi questo è un giro così. Poi devo dire che è tutto pazzesco, lei ha un sito dove si versano 50 euro e poi si va a fare queste gite e io voglio pregare le persone di non credere, scusate se mi esprimo così direttamente, ma ci sono persone di Trevignano che hanno detto che lei ha delle stimmate che poi vengono via con l'acetone e il cotton fioc. Sono dei fedeli, persone che credono, che hanno raccontato che lei non sapeva nemmeno come si faceva un rosario. Però perché l'inchiesta parte solo adesso, scusatemi, è da anni che succede questa roba? Dopo sei anni. Cioè perché un'inchiesta parte adesso e non... Guarda, di per sé arrivano segnalazioni quasi al minuto e se uno dovesse rincorrerle tutte in giro per il mondo... Segnalazioni di Madonna che piangono? Sì, di Madonna che piangono, pure di fenomeni, cose, lo diciamo subito, insomma. Qui l'ambito, per carità, è quello della fede e dei fedeli, poi c'è un fenomeno straordinario o comunque apparentemente tale e poi ci sono delle cose di ordine civico e civile quali ad esempio traffico, cose di questo genere oppure situazioni che stanno sotto grado di giudizi vari e tutto quanto. L'ambito della fede, certo, interpella la Chiesa, ma non per tutte le cose che ogni persona può dire o segnalazioni di questo genere. Lì ci troviamo anche in un caso specifico, quella di Ocesi ha cambiato vescovo e il cambiamento di un vescovo non prevede da un giorno all'altro il cambiamento, ma prevede un periodo anche di amministratore straordinario. La mia domanda è quanto sarebbe facile? Ora, io non giudico, lo dico perché altrimenti poi uno dice no, ma sennò ti denunciano per diffamazione. Io non giudico nessuno. Non giudico nessuno, non giudico chi crede e chi non crede sono affari loro. Io però, quando qualcuno mi chiede soldi o una donazione, così francamente sono sempre molto dubitosa e consiglio a tutti di non dare mai soldi a nessuno perché la fede non ha bisogno del portafoglio e né del conto in banca, va bene? Questo lo dico da sempre. Li fai diventare poveri, Eleonora. Detto questo, Parsi, è così semplice, sarebbe così semplice mettersi una madonnina in casa e dire che piange se non viene poi controllata? Questa è una domanda lecita, me la dovete consentire. No, voglio dire che io anch'io sono stupita come te che nonostante ci siano tante di queste cose, cose che muovono tutto questo vanno controllate immediatamente. Non bisogna aspettare. E poi la cosa che vorrei rilevare per la mia competenza è che c'è un bisogno comunque da parte delle persone di sentirsi dire che cosa succederà, c'è la paura del futuro. Quindi queste cose ti ingabbiano incredibilmente perché qualcuno che ti dice, magari azzeccandoci, che arriverà la guerra e poi magari succede, poi magari già come previsione, beh, ti ingabbia. Allora, questo discorso della madonnina che piange lacrime di sangue, già simbolicamente una madonna che piange lacrime di sangue dovrebbe far pensare a un discorso del femminile, visto che sai, con le lacrime di sangue. Ma va bloccato, va detto immediatamente che situazione è. Perché attenzione, ci sono state persone come Padre Pio perseguitate in maniera incredibile che poi avevano questa capacità di incontrarti e dirti, era una cosa enorme. Allora, questa storia noi la seguiamo da tanto tempo. Da tanto tempo la seguiamo questa storia, scusatemi. Questa della madonnina? Passando anche per un'estate dove nelle Marche ci siamo accorti che c'era una madonnina e le lacrime erano quelle di sangue di un capriolo. Noi non stiamo giudicando la situazione. No, ma lui l'ha detto, lo stiamo a valutare. Permettete che in questo caso siamo anche danneggiati perché è strumentalizzata la fede. E purtroppo la buona fede di molte delle persone che hanno questi tipi di bisogno. dove lo abbiamo detto e lo ribadiamo nessuno ha la capacità di mettere le mani sul futuro e il Padre Eterno non ci manda persone per imbrogliarci o a cui dà delle capacità che non dà ad altri perché sono delle persone chissà distinte come. E le questioni dei soldi non sono il distintivo della Chiesa. Nella Chiesa i soldi sono dei poveri e non si va avanti così nella fede. E quando ci sono, sono strumenti per aiutare quelle situazioni. Quindi tutto il resto, quando c'è ed ha altre finalità quello va stigmatizzato. Ed è una delle materie di indagine che appunto quella che è stata ufficialmente attivata prima della quale viene fatta una conferenza stampa questo accostamento sarà appunto da accertare e da vedere. Ecco, questa indagine vedrà tutti quanti questi aspetti. Quello che mi preoccupa molto di tutta questa situazione e il paradosso sono anche le persone anziane e magari quelle che rimangono da sole a cui viene promessa un al di là migliore attraverso l'intercessione di queste profezie della Madonnina. Ecco, queste signore che magari senza nessuno lasciano i loro denari a questa associazione. Cioè gli anziani, quelli più fragili che magari vengono erretiti perché poi... Vediamo che cosa succede ogni tra del mese. Allora, noi raccontiamo questa situazione per riflettere e far riflettere che è importante. Sentite. Innanzitutto, benvenuti a tutte le persone che sono qui anche sotto la pioggia anche dopo le sciocchezze che sono state scritte sui giornali che qui c'era la multa hanno preso le multe, eccetera. Ovviamente non è vero, ma... i giornali si divertono a scrivere anche sciocchezze. L'importante è che la Madonna si faccia conoscere a questo punto. Allora, innanzitutto saluto voi e le persone che mi seguono e vi ringrazio per essere qui in questo momento particolare e anche difficoltoso per tutti noi. vi chiedo preghiere e vi ringrazio, vi mando un bacione grande. Allora, i giornali scrivono... Sciocchezze. Il fatto che scrivano sciocchezze o meno lo vedremo. Non è che, come dire, bisogna essere imparziali solo da una parte. No? Allora, continuiamo ad ascoltare quello che ha detto questa signora. Ora, questo è un periodo dove credo che la cosa migliore per tutti sia il pentimento. Dobbiamo cercare di confessarci. Dobbiamo ritornare a Dio. Perché non è che si ritorna a Dio... Ma anche, per esempio, il Signore dice... Oh, la Madonna, ciao! Dice, fate dei digiuni. Ma il digiuno non significa solo mangiare pane e acqua. Ma facciamo i digiuni di quelli... Delle cose alle quali siamo più legate. Oggi posso dire... Facciamo il digiuno dei cellulari. Ce n'è un altro pezzo? Fratelli miei, Adesso avremo la possibilità di fare, di pregare, ancora una volta insieme, come accade il titolo del mese, di pregare il Santo Rosario, tutti insieme. Vedo che siete in molti... Ci sono anche molti sacerdoti oggi e sono molto felice perché sappiamo che la Chiesa ce l'abbiamo accanto, quindi questa è una cosa meravigliosa. Dopodiché, niente, dopodiché vedremo se la Madonna ci farà questa grazia anche oggi di apparire. Se sì, leggeremo dopo il messaggio. Don Gaetano, io faccio parlare lei veramente. Ripeto, io su questa questione rimango senza parole, però è una mia, diciamo, è una mia perplessità. Rimango sempre dubbiosa quando qualcuno utilizza anche le stesse parole del Vangelo. Ma in un contesto catechetico, in un contesto educativo, in un contesto anche di gruppo ecclesiale, non sono vietate, diciamo, le esortazioni reciproche, anche la stima reciproca e tutto quanto. Sono le finalità che vanno sempre purificate. Ora, in questo caso, c'è un qualcosa che va appunto accertato. Di tutto quello che ha detto, la cosa che ha avanzato, secondo me, un po' più in modo, diciamo così, avventato, abbiamo la Chiesa accanto, aspetta un po', nel senso che la Chiesa deve appunto fare un'indagine e poi darà anche il suo giudizio. Però pregare un rosario non è vietato, ovunque esso si fa. Ma come dicevo anche in un altro contesto, noi per qualsiasi manifestazione di tipo pubblico abbiamo anche i permessi, e non posso fare una processione oggi pomeriggio in parrocchia, perché è sobravo, perché devo dire queste parole o che è. Si chiedono i permessi perché in un luogo pubblico queste cose accadono così. Qui siamo evidentemente in un luogo acquistato, in un luogo privato, queste cose sono, diciamo così, anche all'ordine del giorno per motivi, diciamo, di incontro, di preghiera. In quell'ambito sono anche tollerate tutte quante queste cose. Bisogna vedere il fine per cui queste cose accadono. E questo sarà quello che accerterà un'indagine che finalmente è stata annunciata e verrà fatta. Dalla veridicità dei fatti a tutto quanto poi il resto che va messo. L'indagine, aspettiamo l'indagine, però nel frattempo, nel frattempo, ripeto, cerchiamo sempre di essere critici nei confronti di certe situazioni. La fede normalmente non si esprime con le cose straordinarie.